ecco ragazzi oggi faremo la torta tenerina abbiamo quattro ova 100 grammi di burro 50 grammi di farina 150 grammi di zucco 800 grammi di cioccolato con me adesso andiamo alla preparazione montiamo gli albumi mettiamo un po di zucchero alla volta ecco qui è proprio montato al neve guardate montate adesso abbiamo messo una pentola d'acqua ci mettiamo un altro pentolino e così col metodo agnomaria sciogliamo la cioccolata piano piano facciamo sciogliere mescolando mescolando facciamo sciogliere il cioccolato adesso tocca ai rossi diamo un istante zucchero eccolo qua finito adesso ci mettiamo il burro e lo facciamo sciogliere mi raccomando prima scegliete il cioccolato e poi il burro è sciotto si è sciotto in burro ecco qua adesso uniamo cioccolato sciotto nello zabaione e lo scegliete e lo scegliete e lo scegliete e poi adesso uniamo gli albumi e un po' alla volta mescoliamo dal basso verso in alto così mescoliamo dal basso verso in alto e ora mettiamo la farina mescoliamo adesso imburriamo la terrina una volta imburrata la terrina ci immaginiamo eccola qui pronta per essere cucinata a 180 gradi per circa mezz'ora a dopo ecco qui la torta tenerina pronta adesso andiamo a mettere lo zucchero ecco la torta tenerina adesso andiamo al taglio ecco vorrei vapa Ciao ciao